Buonasera e benvenuto a Federico Dinka, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera a voi tutti, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Questore della Camera è stato relatore della risoluzione che è passata qualche giorno fa per la maggioranza al DEF, il documento di economia e finanza che è stato in gran parte stilato dal governo precedente e che delinea il quadro dei conti pubblici della politica economica del governo per i prossimi anni. In l'occasione, Dinka, lei ha detto che c'era il rischio che le previsioni del governo precedente appunto si rivelassero troppo ottimistiche, eccessivamente positive. Oggi Confindustria vi ha dato ragione, l'Italia cresce ma cresce poco e si prevede un rallentamento dell'economia per il biennio 2018-2019 con il timore di una manovra di correzione dei conti pubblici per 9 miliardi di euro. È un timore che condivide? Ma in questo momento chiaramente spesso capita che sul DEF le valutazioni sono molto ottimistiche. In questo momento non abbiamo dati a riguardo, a parte quelli che appunto ha proposto il centro studi di Confindustria che vi sia bisogno di un'ulteriore manovra. Venerdì come Commissione Bilancio della Camera incontreremo al Ministero dell'Economia e Finanza i nostri viceministri, il Ministro Tria, per cui sarà un incontro nel quale valuteremo la situazione in questo momento dell'economia del nostro Paese. Però ritengo che soprattutto nel DEF le indicazioni sono state molto precise e noi vogliamo innanzitutto eliminare questa possibilità che si possano di nuovo aumentare l'IVA dal 22 al 25 e dal 10 al 12% attraverso quelle famose clausole di salvaguardia. Quindi vogliamo assolutamente disinnescare queste clausole. D'altro punto di vista il Ministro Tria è stato molto preciso definendo innanzitutto che ci vuole una cabina di regia, una tax force per gli investimenti nel nostro Paese che tra l'altro dovrebbe essere tenuta al di fuori del compito europeo sul deficit e per cui siamo convinti di poter trovare delle risorse anche all'interno di quello che sono oggi dei fondi che presentano svariati miliardi di euro ma che sono fermi perché vi è un certo timore da parte dei nostri comuni, da parte degli enti locali di poter utilizzare questi soldi in quanto frenati da un codice degli appalti che per certi versi blocca gli investimenti e dall'altra forse da un rapporto con l'ANAC che intimorisce in questo momento la spesa dei nostri amministratori locali. Lo stesso Ministro dell'Economia ma anche lei quando ha di fronte alla Camera presentato la risoluzione della maggioranza al DEF avete sottolineato che i saldi per quest'anno restano confermati, che non ci sono risorse per scialare. Le bandiere, le misure che sono state un po' la bandiera di questo governo, il reddito di cittadinanza e la flat tax costano molto, non si faranno quest'anno? Ma io credo che riusciremo sicuramente a mettere al centro innanzitutto la riforma dei centri per l'impiego che è una riforma importante sul modello tedesco che permette di essere il punto di base su cui partire per poter costruire il nostro reddito di cittadinanza. Tra l'altro sono oggi i dati da parte dell'Istat che confermano, una conferma insomma molto molto triste, che nel nostro Paese vi sono 5 milioni di poveri in povertà assoluta e vi sono 5 milioni di persone che vivono in povertà relativa. Ci sono 10 milioni di persone che vivono in povertà relativa. Ci sono dati molto molto preoccupanti, credo che appunto la lotta alla povertà sia il tema fondamentale del prossimo governo e la principale priorità che dobbiamo affrontare insieme appunto alla maggioranza stessa, ma credo tutto quanto al Parlamento e far sì che vi sia, diciamo così, quello che può essere insomma oggi la grande battaglia per il nostro Paese. Sconfiggere una povertà che pensavamo essere passata negli anni 80, negli anni 90 e che invece oggi ritorna più forte che prima. Tra l'altro vi è un dato impressionante quello di chi oggi non lavora, non studia e non cerca nemmeno un posto di lavoro che è del 25% tra i 18 e 24 anni, mentre nel resto d'Europa è del 15%. Quindi di fatto noi cercheremo all'interno, come detto prima, nelle poste di bilancio questi miliardi non ancora investiti e sapremo in questa maniera attraverso anche una richiesta nei confronti dell'Europa di una maggiore possibilità di spesa in deficit di alcuni decimi di punto percentuale per far sì di poter sia di disinnescare le famose clausole di salvaguardia sì dall'altro punto di vista di iniziare un percorso che porti, per noi chiaramente un abbassamento delle tasse e un reddito di cittadinanza che è la principale arma per poter sconfiggere la povertà nel nostro Paese. Di quei 5 milioni di poveri cui faceva accenno lei, un milione e mezzo, quasi un terzo sono in realtà degli immigrati, a loro tecnicamente il reddito di cittadinanza non dovrebbe andare? No, non va, non va assolutamente. Chiaramente noi abbiamo, tra l'altro vedo un'immagine nelle sue spalle del Presidente della Camera Fico e di questa, secondo me, di atriba che in questo momento vi sono tra gli ex parlamentari e tra il Parlamento e tra la delibera del Presidente Fico che appunto parla dei tagli ai vitalisti. Credo che anche attraverso, insomma, che penso sarà una delle domande che mi farà dopo lei, uno dei principali passi da poter utilizzare anche per poter trovare delle risorse importanti sia il taglio dei costi della politica. E oggi siamo appunto partiti con questo importante passaggio di questa delibera all'interno dell'Ufficio di Presidenza con cui finalmente possiamo andare a intaccare un privilegio che gli italiani sentono assolutamente grave e che in una giota come questa, dove appunto vengono identificati i milioni di poveri, dall'altra abbiamo all'incirca 1.400 parlamentari a cui finalmente viene ridotto, viene tagliato il vitalizio di quasi la metà perché di fatto abbiamo un risparmio di oltre 40 milioni di euro su 87 milioni di euro spesi ogni anno da parte della Camera. Quindi credo che di fatto stiamo dando degli atti precisi e fondamentali che definiscono come la politica è il servizio del cittadino. 1.338 vitalizi saranno appunto tagliati del 40 o del 60% fino al 60% Anche 80% Come? Anche 80% Anche 80% La delibera sarà votata nella seconda settimana di luglio, entrerà in vigore dal primo novembre di quest'anno e si applica ad assegni e quote di vitalizi diretti o reversibilità di ex parlamentari della Camera con risparmi, come lei ricordava, che sono stati calcolati in 40 milioni di euro l'anno. Il vitalizio minimo sarà di poco meno di 1.000 euro al mese, 980 euro al mese, sono in tutto 1.405 i vitalizi, i 67 che non saranno toccati sono quelli per gli ex deputati che hanno sulle spalle almeno 4 legislature. Il problema è che gli ex parlamentari onorevole annunciano la richiesta ad anni, se glieli tagliate. Siamo pronte ad affrontare anche questa richiesta ad anni e che io ripeto in una giornata come oggi in cui l'Istat conferma questa decina di milioni di nostri connazionali che sono in povertà, insomma credo che veramente faccia ribollire il sangue questa richiesta da parte degli ex parlamentari. Capisco che è nelle loro possibilità, io mi auguro che vi sia un gesto invece, visto che questo lavoro fatto sui vitalizi è iniziato da alcuni mesi e la presidenza appunto con il nostro presidente Roberto Fico ha fatto un lavoro molto importante di rideterminazione dei coefficienti pensionistici, una valutazione fatta con l'Inps e con l'Istat in modo tale da poter avere un coefficiente corretto per cui oggi queste pensioni che verranno date in futuro appunto questi 1.400 e oltre ex parlamentari sono diciamo uguali appunto al metodo contributivo che ha applicato tutte le persone che oggi vanno in pensione. Quindi insomma io spero che vi sia un passo indietro da parte degli ex parlamentari dove assolutamente, per questo un occhio di riguardo anche per chi poteva finire in stato di indigenza perché vi erano anche alcuni casi, è stato fatto un lavoro molto importante e credo che sia un segno di dignità della politica, di un riapproparsi di un ruolo importante che io mi auguro sia riconosciuto anche da parte degli ex parlamentari. Sarebbe veramente un momento importante per il nostro paese. Senta, ieri il sottosegretario dello sviluppo Galli qui da noi ha detto che la flat tax che lei poco fa e anche il vice premier Di Maio nei giorni scorsi avete definito una delle misure contro la povertà di questo governo potrebbe anche inizialmente essere introdotta in maniera progressiva. Ci può spiegare meglio? È una delle possibilità che in questo momento viene valutata, cioè in base appunto alla valutazione, alla ricognizione sullo stato della salute dei nostri conti pubblici stiamo verificando in quale maniera, visto che vogliamo governare per cinque anni questo paese insieme appunto ai colleghi di maggioranza della Lega, la valutazione è che vi sia una rideterminazione diciamo appunto della riduzione delle tasse attraverso la flat tax in modo tale che si possa partire con diciamo alcune fasce di reddito inizialmente o comunque una valutazione che ci porti a riconsiderare una diminuzione sul lungo periodo. Ripeto, secondo me sono atti corretti che chiaramente insomma a mio parere identificano anche la maturità di questo governo e la volontà di non essere un governo soltanto che esprime parole come certe volte alcuni ci hanno così identificato, chi come sovranista, chi come populista, ma è un governo che dei piccoli passi, in questo sentiero stretto e molto difficile che governano nel nostro paese, vuole fare una lunga strada e riportare nelle più alte vette il nostro paese dove merita di essere, visto che il paese del Made in Italy è un che ha riconosciuto tutto il mondo e che assolutamente merita di poter fare grandi passi in avanti. Se poi mi permette ancora un secondo, credo che il decreto dignità che nelle prossime settimane sarà diciamo che arriverà in consiglio dei ministri, sarà un decreto che inizierà a dare una valutazione di insieme anche alla volontà politica. In questa volontà politica c'è la volontà di così, di andare a scardinare quel processo di delocalizzazione dal nostro paese, di aziende che hanno ricevuto anche importanti finanziamenti da parte del nostro paese, vi è la volontà di andare a togliere la pubblicità dal gioco d'azzardo, io ricordo tutti che il gioco d'azzardo nel nostro paese ha un insieme di giocate pari a 100 miliardi di euro, ne soltanto nel Comune di Roma ogni persona in media gioca a 965 euro, 2,7 miliardi di euro, ma non solo, vogliamo andare a togliere lo spesometro, vogliamo andare a togliere il redditometro che sono atti di burocrazia nei confronti dei cittadini e delle imprese che lavorano nel nostro paese, senza contare poi che vogliamo far sì che di fatto vi sia un minore corso a contratti a tempo determinato che devono passare da 5 a 4 e per un massimale di 3 anni e poi spiegare anche per quale causale vengono prorogati questi contratti invece di passare a un contratto a tempo determinato che di fatto permette anche ai nostri giovani di poter pensare di farsi una famiglia di fare dei figli, perché questo paese qua tra l'altro ha un preoccupante calo demografico e non possiamo far altro che far sì che vi sia una certa felicità nel vivere e questa felicità passa anche attraverso dei contratti di lavoro che portano sicurezza ai nostri giovani. È sicuro che una stretta sui contratti a tempo determinato si trasformi automaticamente nell'allungamento, nella stabilizzazione di quei rapporti di lavoro, perché il Presidente di Confindustria oggi ha detto che aumentare il costo dei contratti a tempo, perché dal lato impresa ovviamente questo è il risultato della misura contenuta nel vostro decreto di Guità, è sbagliato? Ma è noto tutti invece che se una persona si trova nella sicurezza di avere un posto di lavoro è una persona che ha dei consumi più elevati, visto che il nostro è un paese con delle difficoltà di consumo interno, perché abbiamo sì da una parte delle aziende che sono capaci di fare delle esportazioni straordinarie e di essere secondi soltanto alla Germania nel vecchio continente, dall'altra abbiamo una capacità di consumo interno che è tra le più basse, ecco perché tra l'altro abbiamo anche una capacità di risparmio molto molto elevata, ma anche la capacità di risparmio nasce dalla preoccupazione di non avere un futuro sicuro e quindi di fatto insomma riuscire a far sì che perché i giovani che oggi hanno, e io ne conosco veramente centinaia, che non hanno un contratto diciamo a tempo determinato, persone capaci e che vedono prorogarsi il contatto su contratto, se noi gli diamo la sicurezza e sono convinto, sarei convinto anche davanti al Presidente Boccia, di poter confermare che queste persone avranno una capacità di spesa assolutamente migliore e credo che faccia bene alla nostra economia avere persone che si sentono sicure e che quindi vogliono vivere più felicemente questa bellissima vita. Senta, a proposito di esportazioni, Di Maio ha detto che i dazzi sono un tabù da infrangere, che bisogna proteggere il made in Italy, ci buttiamo anche noi nella guerra commerciale contro gli Stati Uniti, i dazzi al quale sta pensando questo governo, se sta effettivamente pensando a mettere delle tariffe, sono anche nei confronti dei nostri partner europei? Perché a Bruxelles non l'hanno presa benissimo. Capisco le preoccupazioni europee, ma l'intenzione del Vice Presidente Di Maio era quella di indicare un percorso di difesa del nostro made in Italy e della difesa dei nostri prodotti. È chiaro che noi subiamo un dumping da parte di altri paesi che nel mondo producono, secondo regole ambientali, assolutamente negative e pericolose anche per l'essere umano e dall'altra facendo appunto, andando in sottopresso e riversando quantità di prodotti nel vecchio continente e in particolare nel nostro paese. È chiaro che noi vogliamo difendere i nostri prodotti, vogliamo difendere le nostre aziende. La preoccupazione deve essere portata anche a livello europeo, molte volte ne è stato parlato, il Presidente Conte sicuramente farà di questo tema, visto che è un tema mondiale, come lei ha detto prima in questa guerra tra America e Cina in questo momento sui dazzi. è chiaro che la preoccupazione è molto elevata e di fatto Di Maio semplicemente ha interpretato quello che è il sentimento che scorre nelle vere di tanti imprenditori che anche ora ci stanno guardando e che sentono con profonda preoccupazione il fatto che il loro prodotto venga sottovalutato o venga, diciamo così, sconfitto, se così si può dire, da un prodotto di inferiore qualità e molto probabilmente che semplicemente riesce a vincere la quota di mercato perché arriva a un sottoprezzo che è ingiusto. Grazie Federico Linca per essere stato con noi.